Ciao, come ti chiami? Stefano Paolo Cosa fai nella vita? Disoccupato Bello, non lo vuoi scopare da grande Come vuoi essere disoccupato? Senti, mi provo! Però bene, ho convinto! Raccontaci qualcosa di te Anch'io sono il mio di Mike Ho comparito oggi tutti i ragazzi di Arrope Quindi fa l'autista Esatto, ma che non posso vedere Le macchine hai? Le macchine hai? D'accordo, non c'è più posto sicuro Ma magari per interessare c'era un pupino Qualche volta poteva parlare anche noi Solo che un posto oggi Grazie di essere stato con noi A che ruolo vorresti vedere del film? L'autista Non ci mancano la vista Potresti essere assunto Grazie di essere stato con noi Stop